Va bene, si vede? No. Va bene ragazzi, ciao a tutti. Franz sta registrando la chiamata, sì. Bene, io sono Franz, riprendendo i miei collaboratori, Alex Charla, scrittore famosissimo, Mauro Colombi, critico musicale, esperto in Lucio Battisti, Alfredo Masi, amministratore del gruppo Lucio Battisti Flash Bob, e il nostro invitato di oggi è Roberto Pambianchi, che è di noi famosissimo, è molto sottovalutato perché lui ha conosciuto di persona Pannella, ha frequentato il padre di Lucio Battisti, Alfiero, la sorella, e c'è un sacco di cose da raccontarci. È il vero testimone in vita di Lucio Battisti, non come qualcun altro, qualche burattino che va in giro cantando, portato dal fossile, che non c'entra niente. Quindi, Roberto, a te la parola. Grazie. Ciao a tutti, ben trovati, eccomi qua. Mi fa molto piacere che essere stato chiamato da veri esperti di Lucio, no? Perché credo che la cosa più bella quando io parlo con qualcuno è parlare lo stesso linguaggio. E una cosa che riscontro in tutti i personaggi qui presenti è l'amore per Lucio Battisti, tutto qua. Grazie. L'amore per Lucio Battisti, per tutto quello che ha fatto Lucio, no? Cioè, personalmente credo che ci capiamo bene. Noi apprezziamo Lucio a prescindere per qualunque cosa lui abbia cantato. A me personalmente non piace proprio l'inizio, l'inizio, l'inizio quando ha scritto le prime canzoni con Robby Matano che hanno scritto anche delle canzoni che personalmente non mi dicono niente ma infatti neanche le ha mai pubblicate e non ha mai pensato a pubblicarle. Quindi, diciamo, Lucio Battisti ufficiale mi piace dal 1966 al 1966 al 1994. Esatto. Che è quello che deve avere? Penso che un fan appassionato è il minimo che gli piace tutto quello che ha fatto. Poi all'interno puoi anche trovare qualcosa che ti piace di meno. Sì, però più o meno siamo tutti sulla stessa linea. Anche a noi ci piace tutto quello che ha fatto anche quando era col paroliere ci piaceva tutto. Infatti abbiamo tutti i dischi più o meno io ce l'ho tutti. Quindi, adesso... Io l'ho comprato in più di una volta. La cosa che a me è capitato come penso a parecchi di noi è che nel corso degli anni io ho ricomprato i vari album ma due o tre volte perché sarà che la puntina non era così buona, sarà che i dischi, gli album, i 33 giri si rovinavano quindi almeno il mio canto libero l'avrò comprato tre o quattro volte così anche Anima Latina, Una donna per amico tutti i vari album li avrò comprati molto più di una volta. No, io no, io una volta sola. No, io no. Comunque io una volta sola. Comunque cominciamo con le domande. Chi vuole cominciare? Allora, io potrei fare una domanda Roberto, quando hai proprio sentito Lucio Battisti nel cuore? Proprio che lo te lo senti? Guarda, è semplicissimo perché io ho una fotografia se qualcuno di voi è anche veloce nell'andare a vedere quando è uscito la batteria, il contrabbasso eccetera. Guardatemi un po' quando è uscito il 76 lo sappiamo. No, 76 ma non so secondo me potrebbe essere febbraio a pelle perché ti dico febbraio 79 76 no, no è 79 76 febbraio 76 febbraio 76 allora io per esempio febbraio 76 avevo 16 anni e ricordo che ero andato a passare una giornata a sciare con mio padre a Terminillo guarda caso sopra a Rieti sopra a Rieti e quindi io nel 76 avevo circa 16 anni febbraio 76 no e ho compiuto 15 anni da poco e quando abbiamo finito di sciare ritornando verso casa a Roma la prima cosa che gli ho detto come siamo arrivati a Rieti da Terminillo gli ho detto papà fermati fermati che compriamo il nuovo album di Lucio e questo album io mi ricordo ancora la corsa che ho fatto dalla macchina dentro mi sembra che era la standa che c'era a Rieti prima di vendere e imboccare via Salaria che ti porta a Roma e la corsa che ho fatto come tutte le altre volte che usciva un album di Lucio questo lo dico perché è sinonimo di una grandissima passione perché non ti metti a correre cioè come tutti quelli qui presenti io sapevo già quando sta per uscire un album di Lucio però non eri mai certo quindi era capace che una settimana prima tutti i giorni passavo dal negoziante di quando esce il nuovo album di Lucio perché io dovevo essere il primo che lei vendeva quella mattina e mi ricordo stavo a un chilometro da casa mia io mi ricordo questo chilometro di corsa sapendo guarda domani lo trovi quindi tac la mattina ero precisissimo e puntuale che ero dovevo essere il primo e quando poi tornavo indietro era una corsa verso casa e da quel momento non esisteva più il mondo entravo nel mondo di Lucio beh diciamo che un po' tutti noi abbiamo fatto questo compravamo i dischi di Lucio a prescindere se prima di sentirli a scavo e il problema nostro è che Lucio non faceva la promozione quindi il giorno prima quasi ti sapevi che esceva il disco abbastanza sorpresa era infatti io perché ti dicevo una settimana prima andavo e dicevo allora esce guarda a breve esce no è uscito no domani ah bene perfetto allora devo essere il primo io perché poi come arrivavo a casa parlando di questo della batteria contrabassa eccetera eccetera che poi è legato pure all'ultimo mio concerto quest'album quando io ho preso l'album in mano che facevo a una certa età correvo a casa scartavo mettevo il disco e prima cosa che facevo mi mettevo quella chitarra insieme a lui che girava e imparavo la melodia subito dopo che facevo scrivo il testo e io il giorno dopo sapevo le canzoni a memoria quindi le sapevo il giorno dopo già cantavo che ne so la nebbia che respiro già la suonavo perché era il modo più veloce per apprendere quello che dovevo apprendere per pura passione perché ovviamente qui parliamo di una passione cinquantennale come si dice è una cosa che vorrei sottolineare anche che io ti ho visto molte volte dal vivo no purtroppo perché sei anche un grande per me chitarrista che tu canti suona la chitarra non lo fanno tutti quelli che vogliono imitare luce tu sei uno che lo fai benissimo suona la chitarra benissimo adesso non per niente ma se uno vuole fare un personaggio per dire prendiamo ad esempio Pino Daniele ti puoi presentare senza chitarra a fare Pino Daniele non ha senso se uno fa Lucio Dalla deve sapere suonare almeno il pianoforte se uno fa Claudio Baglioni sa suonare un po' il pianoforte e la chitarra se uno fa Lucio Battisti deve sapere suonare almeno la chitarra il minimo perché per completarti insieme al personaggio le canzoni se le suoni te le cuci addosso cioè io quando vado in concerto con la band le cucio addosso in quel momento loro vengono dietro al mio modo di interpretarle di quel giorno perché le canzoni Lucio sono pieni di respiro e pieni di cambi di velocità di tempo mi ritorno mi ritorno in mente parte a una velocità poi c'è un'accelerazione poi c'è un'altra ancora e poi ritorno all'inizio con mi ritorno in mente e lì riprende la velocità che aveva all'inizio quindi tutte queste cose le devi vivere dentro perché se tu canti con un click che ormai chi fa musica tante volte è costretto a usare il click perché vengono usate delle sequenze per completare di più l'arrangiamento e quindi tu in cuffia senti il tic 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 ma io non posso cantare la Lucio dell'Est con tic 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 quando a un certo punto fa e ascolto te lì respira quindi c'è un rallentato là quel tic tic dovrebbe diventare tic tic poi riprende tic tic quindi è un lavoro molto complesso dimostra che c'è un lavoro dietro quello che voglio dire io dimostra che c'è un lavoro dietro non come quell'altro il carroccio ma no non dobbiamo fare esempi ognuno fa la sua strada non posso non posso io guarda con tutto il rispetto per l'altro chiamiamolo mio collega lo capisco benissimo al posto suo penso che un po' tutti quanti avremmo approfittato dell'occasione no io 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 non lo so dipende dipende da come la vivi la quello che ti succede la devi sapere anche portattosto o la croce no come si dice no va bene ma quello che posso chi è Mauro vai vai si posso quello che hai detto prima è bellissimo perché mi ha fatto ritornare in mente un po' tutti noi penso io per esempio avevo l'accordo con la con la con la negoziante del negozio di musica dove io andavo a prendere i dischi che la prima copia che gli arrivava a lei doveva essere la mia lei mi chiamava gli arrivava al negozio e non solo lei in negozio metteva quel disco mentre io lo andavo a comprare e lo sentivo da fuori e di cui è arrivato Lucio e quindi è bellissimo detto questo hai detto una cosa molto importante a te piace tutto Lucio sono d'accordo Lucio Battisti prima durante e dopo da per una lira ha la voce del viso quindi l'importanza di Lucio è quella molti parliamo sempre di Lucio l'età che ho è perfetta per essere uno dei fan dei seguaci più importanti per via dell'età per semplicemente perché io come voi ripeto tanti di noi forse forse qualcuno troppo giovane non ce la fa ma a me nel 1972 per gli undicesimo compleanno mi regalarono Manamente Uomo il sogno no? da quel momento in poi dentro di me era una catena di montaggio quindi seguivo paro paro l'uscita di un album a 11 12 13 quando è uscito Animalatina avevo 14 anni e mio padre impazziva proprio per Animalatina il brano quindi immaginate come l'ho assorbito come l'ho assorbito proprio dall'uscita di qualsiasi album io l'ho pistuta in pieno forse ho perso il primo pedicoso che ero leggermente bambino quando c'era 10 ragazze però nel 71 a Cazzone del Sole fa io 11 anni ma vi immaginate io a Villata a Roma quando sentivo le bionde trecce lì e lì rimasi folgorato perché c'era un mio amico che suonava la chitarra e ho detto no a me di suona la chitarra il bello metteva il mangiadischi con 10 ragazze le bionde trecce eccetera eccetera a un certo punto dentro di me è nato proprio il bisogno di avere una chitarra per poter cantare quelle canzoni che mettendo un croce poi a mia madre mi è stata regalata penso un anno dopo facciamo però io non l'ho toccata subito perché sapete quando inizia a suonare la chitarra bruciano i polpastrelli se le corde sono in metallo se non è classica e quindi per un po' l'ho tenuta chiusa dentro l'armato e mio padre ah hai fatto buttare i soldi a tua madre devi suonare la chitarra io capirai più mi dice così e più una voglio suonare ma poi chissà che è successo un giorno l'ho tirata fuori e da quel momento mi sono incollato proprio forse per il bisogno di capire meglio quello che era un album di Lucio Battisti perché se tu suoni la chitarra e esce la batteria a contrabassa eccetera o esce l'anima latina e tu suoni la chitarra acustica o esce il nostro carangelo è pieno di canzoni dove tu ti diverti a suonarle da comunque bella a tutte anche quelle passate dove la base principale è una chitarra acustica quante canzoni conosciamo come la chitarra acustica regna quindi per uno che sona una chitarra e canta eccolo là hai fatto due più due fa quattro come si dice non si sfugge da questo io ti voglio fare i complimenti per l'esibizione all'ultima manifestazione dei brani di Ani Maladina e là e no ti voglio dire adesso poi tu parlando mi hai svelato un segreto e ho capito perché e tu mentre l'hai interpellato proprio mi hai detto che era l'album preferito di tuo padre forse c'è dietro anche questo no la canzone la canzone la canzone preferita ma se hai visto se hai sentito soprattutto hai trasmesso quelle emozioni ma no ti devo dire per quanto mi riguarda è il mio album preferito quindi se ti devo dire la verità io quando sono andato là a Milano per non complicarmi mentalmente che cosa forse ho azzardato un pochettino sulla mia conoscenza della materia però quelle canzoni che erano cinque che dovevo suonare quattordici minuti e tagliarle con la mente l'avevo provata ma la prima in diretta da casa così ho detto forse faccio queste canzoni ma erano mesi e mesi che io non mi occupavo di quelle canzoni quindi sono arrivato sul palco a Milano un po' insicuro perché mi sentivo sporco con la coscienza però mi ero anche trovato la scusa buona che dicevo no però l'ho fatto perché sennò dopo mi emozionavo troppo mi confondevo e devo dire che non è che mi ha fatto impazzire l'esecuzione che ho fatto sinceramente ma hai trasmesso una bella emozione che posso assicurare va bene non mi potevo fare meglio era un po' sbrigativo era un po' troppo sbrigativo invece dovevo rispidare un po' di più allora quello che ho notato che l'esecuzione che ha fatto io l'ho detto pure io in privato a Roberto che mi ha colpito perché praticamente hai non sembrava che c'avevi soltanto una chitarra capito perché allora sembrava con la chitarra nonostante non hai fatto dei virtuosismi non sei un virtuoso della chitarra no nonostante questo rimpellatore parlavamoci chiaro un po' come Lucio quando suonava Lucio chitarra lui non era un chitarrista provetto che faceva virtuosismi suonava a modo suo ma però ti trasmetteva quello che aveva quello che sentiva e tu hai fatto la stessa cosa Ruben uguale sì ma infatti vedi uno dei complimenti che mi faceva il caro Michele Bovi che saluto perché sicuramente magari gli capiterà di vedere questo video quando mi ha scoperto io sono stato scoperto nel lontano 2000 da Pasquale Panella che mi segnalò senza che io l'ho a mia insaputa mi segnalò al suo amico Michele Bovi del TG2 che da lì a un po' di tempo mi chiamò al telefono per dirmi Pasquale Panella mi ha detto che tu hai la voce molto simile a Lucio ti voglio piacere Michele Bovi ti voglio invitare a una trasmissione che farò sui sosia vocali che si chiamava Eventi Pop e da lì poi è nata in me la voglia di esportare fuori da casa quello che avevo dentro di me perché la spinta maggiore me l'ha data il concerto che io ho trovato devo controllarmi ho trovato un concerto molto di poco di quello che vuoi eh? di quello che vuoi eh no un concerto che veramente io stavo per rompere la televisione urlavo piangevo quella sera Lucio era appena morto hanno fatto un concerto sul canale 5 dal Campidoglio che io non mi azzardavo manco minimamente a andare a quel concerto perché già sapevo che si trattava la materia già all'epoca perché sapevo poi quanto l'ho visto in televisione io mi sono dovuto legare le mani veramente urlavo come un pazzo in cavolato nero perché sbagliavano le parole le storpiavano cantavano come gli pareva loro eh una che è stata usannata ti vi giuro io qual'importa che ho sentito questa donna cantare le canzoni di Lucio eh maledetta primavera gliela consento ma ti prego il resto non ce la non ce la fa che sappiamo chi è non sappiamo chi è certo vabbè ho detto maledetta primavera eh Alex domanda intanto vabbè grazie Roberto per questi racconti perché io ho avuto modo di conoscerti ogni volta che ho parlato con te sorgono cose nuove no tu vieni da dal mondo veramente degli ammiratori di Lucio Battisti non sei mainstream spero per te che lo diventerai però la cosa bella di parlare con te è come parlare con un con un fan di Battisti ma con una marcia in più perché tu hai una caratteristica hai una voce estremamente simile e quindi questo mi emoziona tutti noi ogni volta che ti ascoltiamo comunque un conto è ascoltare te un conto è ascoltare chiunque altro è innegabile che quando si ascolta Roberto Bambianchi fare una cover di Lucio Battisti è una cosa diversa è qualcosa di speciale quindi si tratta intanto da parte mia di dirti questo di dirti che tu fai la differenza e di capire quando ti sei accorto che avevi una marcia in più perché a prescindere diciamo tra virgolette dalla concorrenza guarda io mi sono accorto quando appunto ritorno a quel concerto là che io ho detto non è possibile una cosa del genere quindi da quel momento là vedi io forse la cosa di cui vado più fiero a parte quella del fatto della somiglianza è casuale però è anche collegata sicuramente a un grande amore nei suoi confronti tutto è collegato sempre a quel concerto famoso perché io fino all'ora l'avevo cantato dentro casa per mamma papà fratello sorella fidanzate e tutti dopo un po' di anni erano esausti erano stanchi non gliela facevano più mia moglie poi che lei mi conosceva da bambino la mia ex moglie oramai siamo divorziati però anche lei sempre con questo Battisti viaggi viaggi interi fino a che un giorno ho scoperto il Progressive Rock e lì io essendo un maniaco allora sono diventato un maniaco anche di io adesso nella vita al primo posto naturalmente quello è un mondo a parte Lucio Battisti è il mio mondo punto il mio mondo però io esco anche dal mondo fuori dal mondo di Lucio e attualmente il mio artista preferito io non seguo musica italiana il mio artista preferito è Stephen Wilson che è leader dei Porcupine Tree Progressive Rock britannico ma veramente lui ha scritto suona tantissimi strumenti arrangiatore e veramente io lo paragono molto a Lucio se voi andate a ascoltare l'ultimo album che ha fatto adesso non mi viene il titolo però è uscito pochissimi giorni fa Stephen Wilson troverete un prog rock mischiato con una certa elettronica che quando l'ascolto negli ultimi giorni penso chissà Lucio dove sarebbe arrivato con l'elettronica magari avrebbe sarebbe svugato anche lui qua in un'elettronica rock in canzoni un po' orecchiabili perché non è un rock duro quello di Stephen Wilson ma lui ha una discografia immensa insieme a Stephen Wilson l'altro mio idolo tra virgolette si chiama Fish Fish è l'ex cantante dei Marillion che è un gruppo sempre di progressive rock degli anni 80 poi lui a un certo punto ha abbandonato il gruppo ha continuato una carriera da solista e io ho continuato a seguire lui come cantante il gruppo mi è piaciuto un po' di meno che devo fare però le avevo viste in Inghilterra a Roma loro come gruppo cioè le avevo seguiti molto perché ecco la passione per la musica me l'ha data naturalmente Lucio poi dal lì un pochino ho esplorato il mondo musicale mi sono trovato i vari angoletti che mi possono piacere o meno ascoltato dal jazz alla new age a tutto il rock che conosciamo Weather Report tutta la musica importante da Mike Davis però alla fine il mio mondo me lo sono ritirato che è il mondo Lucio il mondo mio e poi c'è il mondo del progresso il rock che è l'altro mondo che mi piace molto quindi ci metto anche dentro i Genesis di Pink Floyd però Steve Wilson attualmente è quello che proprio mi fa impazzire dobbiamo anche dire che tu hai anche dei dischi tuoi hai fatto i dischi tuoi e non sono male devi parlare che i tuoi dischi ho fatto un album mio vedi sai che c'è in quell'album là c'è la canzone io ne vado fiero perché secondo me la canzone più vera è più bella dedicata al Lucio il mio caro Angelo la conosco la conosco il mio caro Angelo è la canzone più bella più vera dedicata al Lucio dove io naturalmente ho composto melodia musica e alcune parole perché ci tengo a precisarlo chi ha scritto una grande parte del testo è Francesco Mirenzi che tutti noi conosciamo perché è l'autore di Battisti Talk uno dei primi libri usciti sul Lucio che era 2000 uno dei libri più importanti 98 è uscito poco dopo che è morto Lucio e lo stava fatto come una ristampa è stato anche una ristampa e Francesco mi ha dato una mano a scrivere il testo di Lucio dove vai si cade Lucio ecco sta con me oggi che non suono me lo metto così proprio attaccato capito però è il telefono che mi fa un po' anche avolare che si muove il telefono sei bellissimo così tranquillo ti sei ecco va bene quindi perdonami tu Roberto questa tua somiglianza vocale l'hai scoperta tardi no no io l'ho scoperta già quando è uscito quando è uscito probabilmente già quando io cantavo respirando nel 76 il 77 amarsi un po' perché perché mi ricordo che andavo in piscina insieme agli amici e io naturalmente avevo la chitarra con me e cantavo le canzoni di Lucio poi nel nel 1980 sono partito militare nei paracadotisti e lì Lucio mi ha dato una mano praticamente perché i nonni sapete che cosa sono i nonni per chi non ha fatto il militare gli anziani quelli che i più anziani noi lo sappiamo però per chi non lo sa gli anziani che facevano parte che facevano militare e durava 12 mesi chi era partito prima di te era più anziano quindi veniva chiamato il nonnismo il nonnismo era tipo un po' il bullismo che facevano gli scherzi io ero diventato intoccabile semplicemente perché tutti noi sappiamo che io collego alla vita mia le uscite degli album sempre dal 1980 è uscito una giornata aggiosa quindi io mi ero salvato dagli scherzi perché cantavo inseguendo una libellula in un prato in quel momento e quindi mi chiamavano Lucio vieni qua e cantaci qualcosa io mi ero creato un piccolo gruppo all'interno avevamo un gruppetto che c'era anche un mio amico che adesso ho rivisto dopo tanti anni a Roma e suonavamo io lui e un sergente però io volevo fare Lucio Battisti all'altro gli diceva Nipu è un altro doveva fare una serata per fare il ballo del gruppo del 31 dicembre del 1980 è cosa che io sono andato a fare e non mi dimenticherò ormai che quando facevo finta di suonare il basso praticamente lui mi ha detto dai devi venire facciamo i balli capito tanto io non sapevo neanche una canzone lui mi ha detto tu ti preoccupai io con la fissa armonica faccio pure i passi quindi teniamo il volume basso dai facci questa cortesia e sta andato là però c'è stato un attimo di un quarto d'ora di pausa 20 minuti che io ho detto fammi prendere la citarra e lì mi ricordo ancora che cantavo la nebbia che ne sfino ormai e nessuno nessuno mi si è filato io ho cantato che ne so per 10 minuti ma proprio ero passato completamente inosservato quindi è da quando sono bambino che so questa cosa ecco solamente che poi quel concerto mi ha fatto così arrabbiare ma il concerto lo collego poi a una telefonata di con Pasquale Panella la famosa telefonata raccontala 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 bene eh praticamente un anno dopo un anno dopo che Lucio era andato via io stavo a casa che piangevo e suonavo e mi è venuto un flash sicuramente qualcuno di voi l'avrà letto quell'articolo come l'avevo letto io che diceva a me chi mi vuole mi trova su elenco del telefono ve lo ricordate? Panella hai detto da una parte a me chi mi vuole mi trova su elenco del telefono non ve lo ricordate nessuno? sì sì no oh ve lo ricordate io un anno dopo mi è venuto sto flash mentre cantavo e piangevo e ho detto ma fammi prendere l'elenco del telefono vediamo un po' se lo trovo e ho trovato un Pasquale Panella poi è entrata la segreteria non sapendo se era lui oppure no io parlo 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 alla fine dico non so se sei lei oppure no comunque io mi chiamo Roberto così così e grazie per tutto quello che hai fatto insieme a Lucio bravo attacco e dopo tre giorni mi squilla il telefono a casa e mi fa pronto ciao sono Pasquale Panella io faccio sì vabbè dai non gioca dai non mi prendi in giro dimmi non di un'altra parola dimmi chi sei no no io sono Pasquale Panella tu mi hai chiamato mi hai lasciato un messaggio pieno di vita e io ti ho voluto richiamare come ho sentito così gelo silenzio per 5 secondi pausa dopo che ho esploso dal telefono non ci posso credere grazie Pasquale e lì abbiamo iniziato una chiacchierata che è durata un'ora e mezza alla fine della telefonata lui mi ha detto vabbè ti saluto tanto tu ce l'hai il mio numero io sono il tuo ci sentiamo ciao attacco e da quel momento il cervello mio ha iniziato a dire quando è che lo richiamo cioè mi ha detto io fai il tuo tu fai il tuo dico domani è troppo presto sono invadente dopo domani sono invadente ogni giorno ribiavo il giorno dopo perché io mi dovevo trattenere da non chiamarlo per non essere invadente fino a che un giorno ho detto vabbè è arrivato il momento ho preso la cornetta e non volevo parlare la mia ex moglie mi disse ma tu sei proprio matto ma guarda che stai a fare gli ho detto guarda io non cerco niente io non voglio niente io sto solo a fare un omaggio perché c'è la cornetta quella appoggiata sul tavolo e lì ero pronto con la chitarra per suonare estetica e gli canto estetica al telefono per un bel pezzo e poi finisco dicendogli questo è un omaggio che faccio a te e a Lucio ciao Roberto da lì mi scrivi passa un po' di tempo e poi fino a che mi scrivi al telefono un giorno mi fanno pronto ciao sono Michele Bovi del TG2 e io vi faccio dire vabbè chi sei sono Michele Bovi del TG2 perché mi ha dato il tuo numero Pasquale Panella perché mi hanno detto che tu hai una voce molto simile a Lucio è vero dico ma che ne so dice fai una cosa fammi sentire qualcosa al telefono ho preso la chitarra pure a lui non gli ho fatto estetica mi ricordo che gli ho fatto il doppio del gioco e allora mi fa perfetto allora io ti chiamo adesso per fare una trasmissione che si chiama Eventi Pop ti mando la truppa mi ha mandato la truppa e per la prima volta quindi io ho toccato il mondo di Lucio fuori da casa cioè esco il fan innamorato pazzo di Lucio viene chiamato dalla Rai per andare a fare Don Giovanni in televisione porca misura hai due diciamo vedi che bello finisco quella cosa e Michele non c'era quel giorno aveva mandato un giornalista per la truppa no? se no che un paio di giorni dopo mi squilla al telefono e mi fa guarda con quel nasone che c'hai mi sei piaciuto proprio tantissimo dice con quel nasone ti voglio far fare pure qualcosa altra cosa io ho detto va bene grazie e dopo di che feci il famoso dossier il primo perché ne ho fatti i diversi il famoso dossier dove c'era l'intertoni credo che era quello sì quello di estetica e di la tua felicità e e lì era il 2000 settembre del 2000 quando hanno ridato hanno fatto questo perché Eventi Pop era stato prima era tipo verso giugno luglio non so se l'avete vista quella trasmissione può essere che cantarsi prendila così no no quella è un'altra ancora io ho fatto Don Giovanni la prima cosa fu Don Giovanni e mi presentò Neck a me e c'erano tutti gli avocali scusa Roberto tu lo sai che sei stato in assoluto probabilmente ma penso vedete il primo quindi hai questo onore che ha cantato in televisione dal vivo una canzone del secondo periodo di Panella cioè di Battisti guarda non ce l'avevo mai pensato sei stato il primo effettivamente sei stato il primo in assoluto sei stato bravissimo io l'ho conosciuto là non ti conoscevo anch'io con la tua felicità no no sei sicuramente il primo guarda sì sì e vi confido che i primi concerti che io ho fatto la prima esibizione in assoluto importante fu chiamato da Robby Matano che amico di Lucio colui che realmente ha scoperto Lucio Battisti e l'ha guidato verso quel mondo ok e Robby Matano ecco anche lui saluto mi chiamò il 6 settembre del 2000 al palasporte di Treviglio per il mio esordio per la prima volta che avevo fatto sì dentro un localetto a Roma però niente di che quella fu proprio la prima volta al palazzetto dello sport di Treviglio vicino Bergamo però io alla prima volta mi presentai con estetica la tua felicità è un'altra canzone solo di quel periodo perché ero con l'elmetto in testa deciso deciso a far conoscere quelle canzoni perché mi dava fastidio che tutti conoscevano sempre solo quelle praticamente quando io partecipavo a queste manifestazioni ero l'unico che cantava queste altre canzoni e dopo due giorni dopo Treviglio mi trovai il 9 settembre del 2000 a Poggio Bustone per la prima volta e lì cantai due canzoni li scelzi di fare anche scusate l'altra parte bravo ad una parte l'altra parte e feci la luce dell'est e subito dopo estetica da lì avevo capito dentro di me che era quello che volevo fare quindi ovviamente spinto dai consensi che ricevevo perché la cosa più importante che ti spinge ad andare avanti è ricevere una pacca sulle spalle quelle ancora oggi mi servono cioè io vengo come mi avete chiesto ecco vengo reduce dal concerto dalla tre giorni finalmente una tre giorni dedicata a Lucio Battisti faccio i complimenti a Francesco Paracchini che è l'ideatore e anche il direttore artistico di questa bella manifestazione prima edizione quindi probabilmente ne seguiranno delle altre vediamo e per me a parte che ho fatto Anima Latina per me era finalmente poter cantare anche Anima Latina in pubblico l'avevo fatto per affari miei perché io una volta ho fatto un concerto che è durato quattro ore a Roma dove queste quattro ore ecco forse la cosa di cui io ne vado più fiero è che io prendo la chitarra e finisco domani perché ce l'ho tutto qua dentro tutto qua dentro e qua ovviamente per tante cose ho bisogno di leggere magari per ricordarmele ma devo fare semplicemente una rinfrescata cioè se io domani devo cantare dove arriva quel cespuglio me la devo andare a vedere oggi perché se vado a cantarla inizio a cantarla ma probabilmente poi potrei anche sbagliare ma le canzoni ce le ho tutte immagazzinate dentro di me quindi io se voglio inizio a suonare e non finisco più e questa è la cosa di cui vado fiero principalmente perché conosco a me ne ha rito tutto il repertorio di Lucio da A alla Z poi qualcosa di più e qualcosa di meno però e forse qua io non ho mai bisogno di leggere una parola quando Francesco mi ha detto Paracchini ti serve il leggio a Milano io ho detto la mia risposta è stata e lui mi ha detto no no sparlo sul serio io no che non mi serve non mi serve no il leggio non lo voglio e a Milano che cosa Lucio a me mi ha portato tantissime cose belle anche momenti di fatica e di tristezza però sicuramente io annovero tanti momenti belli grazie a Lucio tanti incontri e anche con voi pochi giorni fa mi sono visto con Alex conosco Alfredo conosco Mauro non conosco personalmente Franz però come voi conosco tantissima altra gente in tutta Italia e questo è grazie a Lucio è grazie a Lucio che io ho tutti questi contatti naturalmente di persone che apprezzano quello che io faccio quindi che cosa mi ha portato a Lucio a parte i fan tra virgolette quelli importanti dico io vado fiero perché per me ricevere un complimento da uno che ama Lucio Battisti vale mille volte di più di uno che gli piace acquazzura acqua chiara e finisce là capito vale molto di più il vostro complimento quindi che succede che Lucio mi ha fatto conoscere io ho conosciuto tutto il mondo tanto del mondo di Lucio appunto dicevo a quel gran genio a Milano ho avuto il piacere di suonare insieme a Walter Calloni Walter Calloni ciao Walter così lo chiamava Lucio Walterino un grandissimo batterista no? e per me è un'altra delle grandi emozioni che ho vissuto sempre grazie a Lucio cioè quando tu vai sul palco dietro di te c'hai un Walter Calloni che ti suona ancora tu pensate per me in quel momento quando io mi sono immaginato perché io ho detto ma in studio allora immaginate voi loro se tutti lì lui che aveva manco 17 anni con Lucio che guidava la nave che diceva dai pronti che magari dava lo stacco iniziale no? e partiva ancora tu e quando è partita ancora tu dentro di me ero talmente drogato da quel momento che dopo realizzi effettivamente tutta la scena di Lucio che parla con Walter e che dice no fammi così alla batteria che gli lasciava la libertà di fare eccetera eccetera così come con Walter Calloni ho avuto il piacere di incontrare tanti personaggi uno che ricordo a parte il papà di Lucio e la sorella la sorella Albarida io ho un bellissimo ricordo due con Albarida forse tre perché mi sa che una volta l'ho incontrata a casa dal padre poi una volta l'ho incontrata nel 2000 a Rieti in teatro che c'era una manifestazione per Lucio al teatro espasiano c'era anche letra pubblica io quando ho cantato io hanno spento tutte le luci e questa cosa qua ancora me la ricordo perché erano i primi tempi che io uscivo pubblico quindi immaginate io che canto e penso a te completamente al buio perché poi ci sono canzoni dove veramente la voce si plasma si intreccia benissimo comunque altre meno e penso a te ed altre è una di quelle dove si sposa bene la mia con la sua quindi lei mi fece tanti complimenti e lì la conobbi per la prima volta dopo 10-15 giorni mi chiamarono per andare sempre a Rieti all'ospedale dell'Ellis che c'era l'inaugurazione di quello che era stato acquistato dei macchinari con l'incasso del teatro del Spasiano e quindi sono andato al pranzo lì e chi c'era? la sorella di Lucio e guarda caso che doveva fare quando abbiamo finito di mangiare lei doveva tornare a Roma e io pure al barita dico ma tu come stai con la macchina? no io sto a piedi per la prima volta io ero contento di stare a piedi pure io vita mia gli ho detto anche io quindi che facciamo? e allora qualcuno ci portava la stazione nel pullman a Rieti a prendere il pullman per Roma e lì praticamente ero contento pure per la prima volta ti ho trovato traffico sulla salaria era pieno di traffico e io mi diceva piano si fa piano e quindi a lei non facevo altro che parlargli del fratello eccetera eccetera su un viaggio tipo i film di Verdone con Alberto Sordi io ero lì un poquettone con queste guancione così innocenti del ragazzo pieno con gli occhi che mi brillavano perché stavo qua sorella di Lucio a fianco a me no? e sull'auto cosa ti raccontava? eh? eh? cosa ti raccontava? qualche segreto? no dei segreti c'è poco cioè dei segreti lei forse sicuramente ricordo che lei mi disse che Lucio leggeva la musica che aveva imparato a leggere la musica e poi sinceramente i ricordi sono confusi non non saprei che dire e dopo di che emozioni sì perché poi tu te ne freghi di quello che è non assembli cioè lì vivi l'emozione e dopo di che ciao ciao ci siamo salutati e un giorno mi chiamarono voi non lo sapete anzi sicuramente c'era un gruppo il primo gruppo su Lucio Battisti su internet si chiama itfan punto Lucio Battisti così risale ai primi anni 2000 era mauro c'era secondo me c'eri Mauro sicuramente c'eri Mauro quando ci vedevamo a Massa Carrà a Marina di Massa dove c'era in albergo che veniva preso per un weekend e i fan come me Maniaci che io ero appena andato in Rai sì quindi i fan Maniaci si riunivano dentro quest'albergo e si cantava tutta la notte fino a che uno fraia la forza di cantare c'era tutti questi che cantavamo insieme a un certo punto il giorno dopo dovevamo andare alle Cinque Terre perché c'era un convegno su Lucio Battisti a come si chiama non sappiamo Cinque Terre aspetta un paese delle Cinque Terre quella che finisce con Marina ce ne stanno due tre non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo a Rio Marina a Rio Marina a Rio Marina c'era un convegno su Lucio Battisti e c'erano Alberto Radius Mario Lavezzi Pietro Cuccio dei Dic Dic e qualcun altro che stavano là e si sono simbiti poi mi sono simbito pure io che con una chitarra ricordo l'affetto degli amici dei fan che erano lì presenti ma in mezzo al pubblico chi ti vedo? la sorella di Lucio Battisti i miei occhi hanno fatto tom 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 vedi chi c'è Arbarina e praticamente lei era stata chiamata lì perché dovevano scoprire infatti ci voglio andare a Rio Marina perché hanno fatto una bellissima targa proprio vicino all'acqua dedicata a Lucio e quindi hanno scoperto sulla roccia messa dentro la roccia hanno scoperto questa targa e c'era la sorella io pure finisce tutto quanto e come all'altra volta io ho fatto Albarina ma tu come vai a Roma? ma io veramente dovrei prendere un treno io ho fatto Albarina ma quale treno? tu vieni a macchina con noi e ti riportiamo a Roma noi e quindi mi sono fatto il viaggio con papà tipo sempre quello di Verdone io Albarina e i tuoi amici miei in macchina dalle Cinque Terre a Roma quindi lì quattro ore che poi lei al certo punto gli ho detto Albarina dobbiamo passare un attimino in un bar perché ci stavano i fan di quelli lì i fan che stavano aspettando che io passavo lì là perché volevano salutare Albarina e quindi sono passato e gli ho fatto salutare questi che stavano là i miei amici dopo lì abbiamo preso il viaggio e fu un bellissimo viaggio naturalmente anche con Albarina e poi lei mi regalò una bottiglia di vino che l'avevano regalato a lei a sua volta e me la so bevuta che era buona alla faccia mia e con Alfiero con il padre come ti sei incontrato Alfiero mi sono incontrato perché io ho telefonato pure a lui fatto pronto c'è Alfiero io sono Roberto Pabbi anche sai chiamo perché lui non sapeva chi ero naturalmente ti chiamo Bellucio mi fa piacere abbiamo iniziato a parlare ti posso venire a trovare e sono andato a trovare un po' da lì poi l'ho frequentato per qualche mese quel tanto che è venuto con me quando gli hanno donato una targa in Campidoglio che c'era l'allora sindaco Veltroni io glielo dissi Alfiero guarda Alfiero mi hanno detto di dirti che ti vogliono donare una targa in Campidoglio quindi se la vuoi basta che me lo dici io gli do l'ok e lui mi disse certo quindi io quella mattina andai a casa ad Alfiero e arrivò la macchina credo del comune e ci prese e ci portò in Campidoglio da Veltroni c'era anche Gianni Borgna che era l'assessore alla cultura il mio amico Fabio Sabatani Schiuma che è il fautore anche della piazza che hanno dedicato a Lucio e io mi portai la chitarra e sapendo che Alfiero la canzone preferita da Alfiero è non è Francesca non è Francesca a un certo punto che ho fatto io non è Francesca e lui neanche se ero partito ha iniziato a piangere come un bambino e dopo dire ci siamo visti ancora un po' di volte ma poi a un certo punto lo lasciai stare nel senso buono della parola perché non volevo stare come un vampiro cioè io conosco gente che è andata a casa e si è fotografata il documento di Lucio la valigia di Lucio io no io sono entrato a piacere mi sono fatto una foto con lui giusto che c'è ancora una foto sola fatta con lui che ce l'ho e alle spalle sul muro c'è una fotografia di Lucio attaccata al muro piccoletta quindi io magari lo so che è Lucio ma chi l'avete ma cosa che è Lucio quello forse qualcuno la può riconoscere però proprio per rispetto nei confronti suoi della figlia di Albarita che poi purtroppo da lì a poco se n'è andata io neanche cioè se n'è andata pure lei così velocissima è stata perché quando è venuta con me stava bene dopo un po' di tempo da là sta malata e in poco tempo è andata insieme a Lucio però un ricordo bellissimo un altro ricordo bellissimo che ho è Mariano ma è calmo quello che domandavo io detto Mariano lo stavo domandando io guarda detto Mariano è uno dei ricordi più belli che ho del mondo di Lucio perché lui lo conobbi da Michele Bovi a cena io mi portavo la chitarra per come si dice intrattenere gli ospiti a cena ogni tanto veniva ecco detto Mariano non potrebbe capitare Pasquale Vanella cosa che invece non è capitata purtroppo però poi io ho avuto modo di incontrarlo proprio perché sono andato a trovarlo a casa Pasquale io ho cirofonato cirofonato meh meh e invece detto Mariano quella sera a cena io sapevo che lui dico ma tu hai rangiato delle canzoni no si balla linda e tante canzoni dieci ragazze allora io presi la chitarra e suonai cantai balla linda però la presi un po' sotto gamba cioè nel senso che quando tu canti Lucio devi essere devi entrare dentro il personaggio perché sono tutti buoni a fare in un mondo che non ci vale più il mio canto libero sei tu sono le sfumature quelle cose i respiri quelli che contano e a un certo punto io stavo cantando e Mariano mi pare che arrivo all'inciso e faccio balla linda e lui mi guardò così e scuote la testa e fa no guarda Lucio soffriva di più quando cantava ma e se mi hai detto io mi sono interrotto ho fatto hai ragione scusa Mariano l'ho presa sotto gamba e adesso la ricomincio e quando ho ricominciato occhi azzurri belli come suoi l'ho cantata molto più convinto e lui che cosa ha fatto si è tirato sulla manica della camicia e mi ha fatto vedere la pelle d'oca questo è uno dei ricordi più belli che ho di Mariano che poi da lì nacque una grande amicizia tra me e lui un'amicizia fatta di incontri e di telefonate e anche di inviti perché per esempio a San Marino grazie tra piccolette gli ho fatto non esiste io dovevo fare il concerto a San Marino gli ho detto date un premio a Mariano se lo merita per la carriera musicale perché lui è il gigante della musica naturalmente come tutti quelli che hanno collaborato con Lucio tutti vanno fieri per quello che hanno fatto insieme a Lucio non è che possiamo pretendere da Mariano che deve capire per forza una giornata uggiosa cosa che un po' a me da fan mi dispiace perché dico ma scusa ma quello ha continuato tutta la carriera e tu da quando hai finito di lavorare con Lucio hai smesso di seguirlo in pratica tranne le cose che ti vengono come si dice le radio poi alla fine tante canzoni le conosci senza averle mai ascoltate no? tipo acquazzura acquachiara immaginate quanta gente la conosce perché nell'orecchio gira sempre quindi diciamo ecco Mariano mi viene il periodo di Mariano è stato molto bello soprattutto perché poi mi chiamò per realizzare in studio per lui delle canzoni voce chitarra che lui aveva arrangiando per Lucio quindi parliamo di mi ritorni in mente 10 ragazze 7 e 40 eh? quel pericolato quello che aveva fatto di canzoni no mi ha fatto tipo 12 ora non ricordo eh però mi ha fatto questa è una cosa di cui io tra piccolette perché poi non è mai uscito niente no? ma è una cosa di cui io vado fiero perché dentro di me c'è sempre lo stesso discorso di Pasquale Panella l'ha fatto anche Mariano detto che lui diceva effettivamente Roberto è quello che mi ricorda molto più Lucio se lo vogliamo chiamare come eh una medaglia che di cui non me ne importa niente a me è tutto un insieme ovviamente ci metto anche la timbrica della voce non ci mancherebbe però Mariano che mi ha chiesto anche lui di fare quelle cose eccetera eccetera un giorno ho fatto sentire una cosa a mia madre e mia madre mi disse ma chi sei Teo e Lucio e quindi a me queste cose spingiochetti mi piacevano ma sono io sono io quindi ecco poi tu che l'hai frequentato tu che l'hai frequentato ha detto Mariano cosa pensava dell'ultimo periodo di Lucio dei bianchi guarda Mariano Mariano dei bianchi pensava bene in studio aveva un quadretto con il testo di ecco i negozi perché gliel'aveva regalato Pasquale Panella però lui mi ha chiesto anche a me e mi ha mandato la registrazione un arrangiamento di ecco i negozi rifatto da lui che sinceramente mi ha detto tieni cantalo te e dov'è? quando io me lo sono messo in cuffia mi ha lasciato molto sbilanciato sinceramente non ci ho fatto a cantarlo non mi andava perché era tutta un'altra cosa ce l'hai ancora? ce l'hai? ce l'hai ancora? no no perché l'ho scartato però ce l'ha forse uno che non ricordo chi è perché lui Mariano l'aveva scritto per questo l'aveva rifatto per questo amico suo che voleva cantare ecco i negozi e allora la starrangiamento in quel modo e poi me l'aveva dato anche a me e ultimamente mi sa che questa persona che io ce l'ho tra i miei amici probabilmente mi ha mandato quella ho detto mi sembra già di averla sentita perché era quella versione là secondo me però interessante interessante sarebbe interessante ascoltarla era molto di strumenti classici non è che a me mai ha fatto impazzire particolarmente posso farti una domanda Roberto? certo questo racconto meraviglioso infatti non ti abbiamo interrotto perché tutto quello che hai detto è strepitoso mi viene da chiederti quali sono per te gli elementi di continuità tra un Battisti Mogol e un Battisti Panella cioè tu sei l'unico oltre a avere questa caratteristica timbrica e avere la benedizione di persone che lo hanno conosciuto che sembra poco ma in verità importante tu sei l'unico che crea una continuità tu non fai distinzione per te è indifferente se sia chi segue le mie dirette lo sa esatto cioè non è che tu sei uno di quelli vendicativi che dice esiste solo il Battisti Post Mogol a te non interessa tu sei uno che ha una visione completa dell'artista ma dai procedi ma come vedi tu mi stuzzicate no io seguo uno solo e si chiama Lucio Battisti punto il resto il resto sono i bottoni di una giacca sono la collanina che ti metti al collo sono la cornicetta di un quadro però voglio dire tu puoi avere una cornicia più bella del mondo ma se il quadro fa schifo fa schifo mi permetto di interromperti per chiederti visto che tu le canzoni non è che ne scrivi o ne parli ma tu le canti le interpreti e le devi studiare per questo motivo ti chiedo quali sono per te gli elementi di continuità cioè ci sono degli elementi di rottura che tutti conosciamo quello che è più interessante secondo me è trovare gli elementi di continuità chi se ne importa del cambiamento si ho capito ho capito che puoi sapere allora la continuità c'è solamente sotto la parte della melodia di alcune canzoni cantate e allora lì c'è un collegamento con il periodo passato di Lucio però per esempio poi tutto questo se noi prendiamo l'album Don Giovanni naturalmente su Don Giovanni ancora c'è qualche collegamento con il passato soprattutto nelle canzoni tipo le melodie di proprio la stessa da Don Giovanni come la canta il modo di cantare ma piano piano anche l'apparenza per dire c'ha dei ma è talmente lui difficile da beccarlo un fragrante che ti dice ah tu ho beccato qua che mi ricordi quest'altro forse qualcosina in qualche album dopo l'apparenza puoi andare i pescati e si ricorda con quell'altro ma sinceramente trovo il filo conduttore e la voce punto esatto e la voce e la voce ed alcune melodie una cosa qualche segreto ti ha conosciuto anche Alberto Radios il compianto qualche segreto che ti ha raccontato lui qualche aneddoto ma guarda l'aneddoto forse che poi anche dipende dagli aneddoti recenti o passati per esempio un aneddoto molto bello ce l'ho da oddio aiutatemi adesso mi spugge il nome Formula 3 sono un cicco? no Gabriele Lorenzi Gabriele Lorenzi un altro che vuole parlare con lui è certo nessuno lo intervista ma che scherzi Gabriele te lo consiglio di cuore che te gli fanno una chiacchierata con lui perché io quando è uno dei pochi è uno dei pochi che quando io ho parlato con Gabriele mi ha trasmesso veramente l'amore per Lucio cosa che in altri non ho non ho percepito sì sì io voglio bene ma era una cosa più di passaggio invece Gabriele mi ha raccontato l'aneddoto che io ricordo più bello è quello legato a Mi Ritorno in Mente che è legato ai concerti che facevano insieme con Lucio in quel periodo quei famosi due anni di concerti tra che era 69 e 70 70 e 71 non ricordo comunque 10 concerti eh eh no no continua eh dicevo quando fecero stavano in concerto con Lucio eh sono andati a dormire la mattina verso i 10 stavano a far colazione Lucio non era ancora arrivato è arrivato sempre perché Lucio non è il primo che me l'ha detto dopo adesso me l'ha raccontato anche Walter Calloni gli ha detto ho passato tutta la notte stavano la notte ho fatto una canzone nuova e mi hanno fatto e dai c'è la sentenza e praticamente mi ritorni in mente quindi immaginate when I feel I'm sorry when I go today magari se l'ha inventata così no? e loro da lì nacque e mi ritorni in mente questa è una bella aneddoto che io conservo dentro di me molto volentieri un'altra conferma che ho avuto proprio vedi perché poi tu parli parli io di gente che ha incontrato Lucio l'ho incontrata tantissima poi vai a sapere se ti dicono la verità io la prendo sul serio no? per esempio questa ho avuto conferma parlando con qualcuno di voi che un mio amico mi disse io abitavo andavo in vacanza l'estate negli anni fine anni 70 80 o 82 andavo ad Anguillara in vacanza Anguillara lago di Bracciano significa windsurf 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 e quel periodo là e diceva io io conoscevo Lucio ho conosciuto Lucio Battisti stava stessi e io gli ho detto ma ci ha parlato ma lui sapeva che io era un po' amante di musica ma niente non avevamo parlato poco e niente di musica mi ha raccontato che Lucio girava completamente rasato a zero come me e qualcuno di voi me l'ha confermato sì lo sappiamo perché lui era costretto a rasarsi a zero per non far si riconosce in giro poverino cioè poverino gli ho pensato a che punto l'ha arrivato ha rasato a zero perché non ti vuole far riconosce e così ecco per esempio Alberto D'Alius naturalmente gli ho chiesto quando suonava con Lucio le cose le prove con quasi tutti quelli con cui ho suonato io parlavo sempre esclusivamente di musica per esempio tornando a Mariano Detto invece entro nel gossip grazie a Letizia Veronese la saluto grazie grazie la salutiamo grazie grazie Letizia Veronese ha conosciuto Lucio Battisti che grazie a Mariano Detto che ha presentato a Mariano capito? lo sapevo questo facciamo un po' di gossip poi invece Radius mi ha raccontato quando hanno fatto la canzone del sole mi sembra che c'era anche lui oddio sai che c'è poi i ricordi me li ricordo male e poi non vorrei che qualcuno abbia anche ingrandito quello che ha fatto nella vita però credo che Alberto se faceva parte di quel gruppo che erano in quelli nel 1971 il gruppo era niente altro che un gruppo di diversi musicisti era una squadra di che ne so era una squadra di chitaristi una squadra di bassisti una squadra di tastieristi una squadra di batteristi dove a secondo di chi era disponibile in quel momento veniva usato nelle registrazioni delle canzoni di Lucio per esempio Mariano mi ha raccontato che il pianoforte di balla linda occhi azzurri bram bram belli come suoi quello lo suona Lucio è Lucio che suona quel pianoforte perché quando stavano là gli ha detto Lucio fai sentire la canzone Mariano ai musicisti e Lucio l'ha iniziata col pianoforte occhia con le tre dita famose perché Lucio non sapeva suonare pianoforte naturalmente e questa è un'altra cosa che mi è rimasta impressa cioè l'idea che Lucio suona il pianoforte in balla linda poi domande Alfredo io volevo ecco da Roberto mi farebbe piacere sapere il passaggio come ha visto lui il passaggio dal primo periodo al secondo periodo quando da una giornata uggiosa io non vedevo passaggi non ho mai visto passaggi per me non erano passaggi io non ho mai pensato a un passaggio quando compravo Lucio pensavo sempre è il nuovo è il nuovo di Lucio non era un passaggio una metamorfosi era il nuovo perché lui scusa uno che ha fatto nel 74 anima latina e due anni dopo ti tira fuori respirando che non c'entra niente con anima latina o ancora tu che non c'entra niente con anima latina e dopo anima latina ti tira fuori dopo ancora tu ti tira fuori di sì viaggiare con quel riff di chitarra molto importante che guida quindi quando lui ha fatto tutte le cose che ha fatto per me non era niente che mi lasciava meravigliato per me era normale perché lui sapevo che ogni volta cambiava quindi non sapevo mai che cosa si aspettava lo sapevamo tutti hai sempre diciamo hai sempre apprezzato ciò che io dico per me quando lui si sente bene e io questo pensiero lo sposo proprio perfettamente invece la maggior parte dei fan tra cui mi ci metto anche io diciamo c'è voluto un po' di tempo per riuscire a capire un po' tutto quanto perché io ho cominciato a conoscere Lucio veramente da ero piccolo quindi mi ricordo la prima canzone che mi colpì era Fiori Rosa Fiori di Pesco per dire poi da lì ho cominciato tutta la discografia ho apprezzato fino a e già mi piaceva e già però poi passando dall'apparenza in poi cominciava Lucio era diverso completamente diverso completamente diverso dall'apparenza fino a Eichel le studentesse e gli studenti i rapinatori del momento d'oro del momento d'oro bellissimo quel momento di falsetto quel momento di falsetto ti riporta indietro nel tempo ma in realtà ti proietta nel futuro perché ti porta indietro a livello perché tu non vieni diciamo a noi e lui lì se le studentesse rapinatori del momento d'oro consumassero un lusso di moine cioè un rimandare sempre al giorno dopo no lasciamo perdere le parole però lui lì la voce è il filo guida di tutto questo io quando usciva l'album nuovo certo se devo dire la verità sicuramente l'album che io ho ascoltato credo di meno in vita mia che sono cioè dire di meno vuol dire milioni di volte è un paradosso meno però sicuramente ho ascoltato meno di altri album e già e già e l'album che ho ascoltato di meno perché poi lui ci ha regalato quasi subito vabbè 4 anni dopo ma intanto se voi pensate se voi pensate che è già uscito nell'82 e Anima Latina nel 74 8 anni dopo quello ha girato il palazzo ma era passato per una giornata una donna per amico e la batteria a contrabassa eccetera quindi ha fatto questo slalom in mezzo a sta musica per arrivare dentro e già no quindi trovo la sua parte più grande è proprio questa di saper ti sorprendere ve lo ricordate la prima volta che avete ascoltato le cose che pensano no? le mie preferite sono incredibili quando avete messo le cuffie una delle cose più belle che io ricordo di luce era la qualità delle registrazioni anche prendila così quando tu sentivi la chitarra era una cosa da la canzone del sole tutt'oggi ancora dici ma io mi sento che bel suono che c'ha la chitarra e che ne so io nel tempo poi le mie scoperte musicali invece sono altre io ho scoperto che il mio canto libero il mio canto libero è come tutti quelli che suono la chitarra sicuramente l'ho raccontato a qualcuno di voi quelli che suono la chitarra fanno tre accordi che sono la maggiore do diecis minore settima e re sette più invece questo ti serve per fare proprio la canzone quando io metto il disco suono questi accordi che ha fatto Lucio e infatti per tanti anni io mi chiedevo ma perché io non la sono uguale non mi viene uguale a lui eppure faccio gli accordi su quelli no non erano quelli perché lui ha accordato la chitarra un tono più in basso quindi se faceva con un'altra accordatura do mi minore fa sette più usciva come se faceva la do diecis re sette più do diecis minore re sette più però la particolarità sta nel fatto che nei tre accordi che ho detto do mi minore fa sette ma più il mi cantino suona in tutte e tre le occasioni sempre uguale sempre libero e quindi quando tu sentirai in un mondo che senti sto do il pieno poi vai in mi minore e si sente il mi cantino libero e poi si sente il fa sette più con il mi cantino libero che è una cosa che dici oddio no ma non è possibile perché io faccio la e la poi vado in do diecis minore e tocco la corda del do diecis minore e poi tocco la corda del non mi ricordo se è il fa diecis o re si fa diecis quindi sono tre suoni diversi fino a che ho preso la chitarra dove fino a che ho preso la chitarra e mi sono messo a scordarla a scordare la chitarra fino a che non ho trovato il mi cantino libero come lo suonava lui quando ho trovato il mi cantino allora ho accordato tutto il resto della chitarra e è uscito fuori che la dovevo suonare in do la stessa cosa vale per l'aquila l'aquila si suona il re minore mentre in realtà lui la suona in mi minore perché poi gli servirà ma come un'aquila può in quel momento lui fa un do ma se tu tieni l'accordatura standard la devi suonare il re minore e invece di fare quel do devi andare a fare un accordo con il barré che è un si bemolle e non riesci a dare quel sound che c'è nel disco quindi queste sono le cose che ho scoperto è una cosa incredibile però tu pensa che mente che musicista perfetto che era che perfezionista ma questo l'ho riscontrato la farfalla impazzita uguale la farfalla impazzita accorta il mi basso il re quindi quando lui fa si sente un basso di corda che è forte e quello è perché ha accordato il re perché lui tutta la canzone la suona sul re c'è sempre questo re basso fisso ai tempi si usava molto e lui cambiava spesso nelle canzoni questa cosa ma questo l'ha fatto pure sui bianchi mi sa diciamo sui bianchi non fa niente e beh un accordo lo può falsare magari vabbè perché io no no sul bianchi era quello punto no no l'accordatura è quello tutto così mentre una cosa ecco a me per esempio ci sono state delle cose che ho afferrato bene nella vita parlando di quello che ascoltavamo no per esempio mi sono accorto in età avanzata che nelle allettanti promesse quando dice la sera stanco morto io pensavo preferisco stanco morto non preferisco andare a dormire no giusto invece qualcuno mi fece guarda che non dice stanco dice stracco stracco morto ho fatto vero è poiano accento è l'accento poiano e la stessa cosa per esempio che ne so a me una cosa che mi piacche molto quando ascolto ancora oggi però all'epoca per sentirla proprio c'è un pezzo proprio della batteria contrabasso eccetera del caro Walter Calloni che lo riguarda quando c'è un dottore che a un certo punto lui fa nella seconda parte quando sta per finire è già sera quando è sera lei mi vuole è un'abitudine la nostra quasi una malattia in quella pausa si sente luce per far così quasi una malattia l'avete mai sentito lui fa lui fa sì sì fare che lo strozzano e fa quella cosa non la conoscono in tanti io per esempio mero confuso nella coda di orgoglio e dignità ricordate come finisce no? alla fine no? sì orgoglio e dignità e dignità ok io sarà che non c'avevo l'impianto buono sarà che la coda magari non la sentivo con attenzione mi sono trovato negli anni 2000 a fare una figura di M con uno che cantava i cugini di campagna perché a un certo punto stavo a cantare orgoglio e dignità e lui mi fa ah ma lo sai che io non pensavo che la canzone faccia perché ti ho sentito tu canti popo tiro teti popo tiro teti perché io ti ho detto me lo so guardato perché tu che pensi che fa a me mi sembra che fa orgo io e dignità io ho fatto dico aspetta un attimo fa me senti ho fatto una figura la più brutta figura che ho fatto da battistiano perché arrivo là e ti faccio popo 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 tiro teti popo tiro teti cantavo capito il battistiano non per eccellenza da quello che io sono battistiano mi sono presentato con popo tiro titi queste però ecco a parte poi con le canzoni con panella non ne parliamo ultimo giro di domande che già siamo a un'ora e mezza quasi di programma posso posso tu mi hai confermato quello che ho sempre pensato che la vera continuità di Lucio è la sua discontinuità in effetti discontinuità perché ogni diciamo tutto il suo concorso è ricco di discontinuità ti confesso penso che quando ho ascoltato per la prima volta appunto le cose che pensano io mi sono emozionato volevo sapere da te e mi sono emozionato come tuttora io quando ascolto per nome mi emoziono e c'ho una testimonianza ora non la sto a dire tutta ma poi la tirerà fuori che Lucio quando cantò quando registrò quel pezzo si emozionò anche lui tutto lo studio si emozionò ma dai il nome il cognome lo scrivo sul gruppo perché devo andare a ritrovare la testimonianza che mi è arrivata tramite una persona di chi di chi ha registrato con lui per nome era Robby Smith e Greg Walsh e ce n'era un altro che adesso poi ti dirò il nome adesso mi sfugge onestamente era un intrecco dunca no dunca no non c'era anche dopo sì però pure il frangente in quel frangente c'era anche lui però voglio dire di tutto il percorso dei bianchi e non a caso io metto sempre nella mia classifica i bianchi diciamo nelle mie preferenze in particolare l'apparenza ma quello che ha maggiore discontinuità nel primo periodo di Lucio che poi le canzoni di Lucio sono stufato di sentire il suo nome abbinato ad un altro le canzoni sono di Lucio per me punto non so come la pensi te in tutto il suo percorso diciamo dei bianchi secondo te qual è stato il punto tra virgolette di rottura vera e propria con il precedente se c'è stato io penso però c'è stato da e già in poi una delle cose che a me ha fatto male un pochino che da e già in poi mi ha privato quello che avevo fatto fino allora per tutta la vita che avevo raccontato cioè che facevo andavo compravo il disco arrivavo a casa prendevo la chitarra e mi mettevo a suonare perché c'era e invece quando è arrivato da e già fino a Egel questa cosa era diventata un po' più complessa perché non c'era più la chitarra e non la fai benissimo non c'era più la chitarra però quindi ho continuato a farlo perché quello che tu ascolti è il risultato di quelle cose lì che facevo di confezionarmi le canzoni estetica io l'ho suonata in televisione al telefono a Pasquale che era 2000 era uscita sei anni prima quindi vuol dire che dal giorno dopo che è uscita quell'album e io stavo con la chitarra cercando di fare quello che potevo fare mentre una volta era fattibile un po' tutto cosa che per esempio anche su una giornata aggiosa non è che è tutto suonabile con la chitarra cioè anzi pure lì è già pure lì è poi finito il tempo della chitarra acustica l'ultima chitarra acustica le troviamo su quelle che intendo io da una donna per amico che però già per esempio una donna per amico nessun dolore sono canzoni che hanno la chitarra acustica cioè tiri tiri lì la mancanza che ho sofferto di più io è stato questa la mancanza della chitarra acustica vorrei sapere ma l'ultima canzone del ucio che è la voce del viso paradossalmente ha dei pezzi che invece ricordano proprio il primo lucio ma perché quella è basata su un giro d'accordo guarda caso è proprio stata l'ultima canzone ufficiale chissà com'è ma non lo so perché no ma lì lui ha detto adesso praticamente secondo me la sfida più più grande che ha gettato lucio a noi è quella provate a cantare se ci riuscite ma venite dietro fino adesso mi veniate dietro ma provate a venirmi ancora dietro oggi per esempio cioè a me per esempio io vi posso dire quello che ascolto di meno dell'ultimo periodo di lucio no sapete è una canzone che ascolto pochissimo qual è la metro eccetera non ti piace molto poco non mai dire non mi piace su lucio battisti con me non esiste mi piace di meno una delle canzoni che ascolto di meno è la metro eccetera una delle canzoni che ascolto di più eh qualche canzone ci sarà che non ti piace o ti piace di meno io ce n'ho qualcuna che non mi piace beh che mi piace di meno che non mi piace non ce l'ho bravo cioè per esempio slow motion dopo un po' rompe no perché è tutta uguale però come faccio a dire mi sembra quasi di darmi uno schiaffo se dico non mi piace non ci riesco ma anche perché poi quando la canti è bella che è che non ti piace a te a me non piace molto ancora tu però mi piace il lato B di ancora tu sapete qual è? per esempio ancora tu anche a me non mi faceva impazzire ma l'altro giorno che l'ho suonata con Walter Colloni ho capito quanto è bella quanto mi piaceva stare lì a suonarla e quanto poi mi viene per fortuna bene cantarla perché mi piace il lato B e il lato B di ancora tu sapete qual è? il cespuglio esatto dove arriva quel cespuglio bellissimo ma io non vedo né Roberto né Franz voi li vedete? io vedo soltanto Franz e io invece non vedo né Roberto né Franz vedo invece Alex va bene se stai registrando e vediamo tutti allora è un problema mio perché non vi vedo più né Roberto né Franz vi sento vi ascolto bene ma non vi vedo io vi vedo io ne vedo tre sono io che fallo io volevo chiedere a Roberto quale dei pezzi bianchi è il più difficile da cantare e qual invece è il più difficile sono tante però ti volevi che quale invece è il più simile al primo periodo a livello melodico posso che ci hai già risposto a tutte le domande che ti volevo porre perché ascoltarti è stato strepitoso te lo dico quando quale guarda possiamo paragonare vogliamo fare dei paragoni facciamo paragoniamo le cose che pensano dall'altra parte ci metto vento nel vento quindi immagina entra nella melodia in nessun luogo andai io e te io e te perché io e te lì trovo una congiunzione tra le due canzoni no cioè ma è sempre perché è la voce di luce poi le melodie naturalmente sono diverse la stessa cosa te la posso fare su Don Giovanni e emozioni io quando sono spesso mi piace anzi no spesso in scaletta viene prima Don Giovanni e subito dopo emozioni perché le ho volute mettere vicino per far vedere come emozioni considerata una canzone top di lucio se ci metto anche Don Giovanni che per me è una canzone top di lucio quindi due canzoni top che non vengono cantate nessuna delle due dal pubblico perché il pubblico canta le canzoni facili ma seguir con gli occhi in un aerone sopra il piume non riesce a stare dietro lì possono al massimo fare emozioni e finisce lì quindi invece Don Giovanni cantano uno o poco o niente però l'ascoltano e il risultato presso a poco è simile che vengono apprezzate tutte e due quindi il mio futuro che lo dicevo a qualcuno di voi è se riuscirò a allargare la gamma delle canzoni dell'ultimo periodo però suonandole in maniera diversa da lucio mentre per quanto riguarda lucio battisti classico sono abbastanza restio a cambiare gli arrangiamenti a cambiare qualsiasi virgola cioè io il mio canto libero deve essere quella l'unica cosa che ho tolto dal mio canto libero è io parto subito perché mi piace che secondo me sorprendo il pubblico e faccio in un mondo che quindi parto subito da senza far tanto non è che una frase di chitarra chissà no così però sa che c'è quel timbro come noi sentiamo il mio canto libero timbrata proprio no come emozioni e timbrata e quindi vorrei riportare le canzoni dell'ultimo periodo non tutte insieme perché se no dopo il pubblico devi essere anche intelligente a saperlo affrontare un pubblico perché se no rischi che fai contento tre persone o cinque o cinque o venti o trenta su duecento e non funziona così tu devi rispettarlo il pubblico e quello che viene devi saperlo prendere quindi devi fare un po' tutto quindi il mio obiettivo è quello di buttare all'interno anche sette otto nove dieci canzoni dell'ultimo periodo però riarrangiate in chiave più acustica cosa che io se avessi avuto l'occasione di incontrare ecco abbiamo parlato ho incontrato quello quell'altro padre sorella nipoti zii cognati cugini zii di secondo grado il primo grado io rimanevo io ero qua amico dell'anno e manca solo uno che non ho incontrato chi lucio non l'ho mai incontrato però è come se l'avessi incontrato tra virgolette ecco rifare così lucio gli avrei detto lu mi è piaciuto tutto l'ultimo periodo tuo l'unica cosa che un pochino avrei dosato è la batteria elettronica avrei messo un po' meno batteria elettronica e poi ti devo dire la verità lui mi manca la grado acustica ma questo è in confidenza tra i tuoi amici che gli avrei detto perché la prima cosa che accetto è quello che lui propone punto nel bene e nel male il gabbianone il gabbianone è un regalo che ci ha fatto la natura no quando noi ascoltiamo il gabbianone che è una delle più belle canzoni di lucio no però pensate che lui la non l'ha messa chissà per quale ragione forse perché era troppo normale forse perché era troppo normale era troppo canzone standard perché lui ha stravolto tutto quello che era la costruzione della canzone no che ha fatto ha levato i ritornelli i famosi acqua azzurri acqua chiara erano spariti perché seguiva tutta un filo strano cosa che quando ho parlato con panella gli ho detto senti pasquale a me quello che tu e lucio doveva volate lì non me ne importava niente gli ho detto mi piacevano i termini e poi io con tutti quei termini che poi lui cantava e tu hai scritto io ricostruivo una scena a mio gusto e piacimento vedevo tante scene durante una canzone quando gli ho detto così lui mi ha detto poi quello non lo so però mi ha detto grazie sì bravo la ultima va bene strepitoso ci sarebbe da fare un'altra puntata con roberto sinceramente io starei qua un'altra una e mezza ad ascoltarlo infatti non ti abbiamo fatto domande perché vai bellissimo ascoltarti no no sul gabbianone io ho avuto l'occasione di chiedere a pasquale panella ma sto gabbianone da dove viene e lui mi ha risposto con una superficialità che mi ha lasciato senza parole io gli mandavo dei testi così per giocare quindi neanche lui si ricorda neanche di quel testo non gli dà alcuna importanza e ti dice io gli mandavo così per provare quindi il gabbianone probabilmente è una prova che facevano tanto certo è la stessa cosa il belladdio bravo e gli mandava così perché poi il disco era un'altra faccenda ma pensate al belladdio il provino del belladdio no a me lo sapete che mi piace del belladdio la particolarità è quando secondo me la parte più bella di quella canzone quando lui fa lì quel momento quando sento che lui gioca con la voce penso ma pensa questo quanto sei stato divertito adesso che è arrivato a fare questi urlietti da matto così capito si divertiva è che si divertiva luce con gli ultimi dissi è certo ma c'è quello che parlava senti Roberto è sempre divertito luce secondo me è diventato un lavoro a un certo punto lui lo dice nel 78 dice sono 4-5 anni che con Giulio Rapetti non ci vediamo più non ci parliamo poco è l'ultima intervista questa più o meno questa è nel 78 la radio svizzera disse così sono 4-5 anni che parliamo di meno ci vediamo di meno quindi io sono andato a ritroso ho detto abedi anima latina quindi che vuol dire che la batteria a contrabbasso io turno tutti una donna per amica una giornalogiosa sono gli sforzi da produzione discografica che ha fatto Lucio perché se uno parla in quel modo secondo me quel taglio lo voleva fare a parte che il taglio avverrà poco dopo perché lì è il 78 nel 82 esce l'album nuovo solo quindi lui lo sapeva che stava per fare il taglio gli mancava proprio arrivare il traguardo perché probabilmente c'era un contratto discografico che vincolava il numero di album e quindi doveva fare come ha finito si è tra virgolette separato perché ma non perché c'era qualche cosa secondo me non c'era niente c'era solamente la voglia di evolversi artisticamente e una delle cose che hanno detto che io reputo vera è quella di voler togliersi quell'immagine consumistica che gli era stata cucita addosso perché lui si sentiva molto più musicista molto più artista importante di quello che cantava le bionde trecce hai capito? hai detto sì? secondo me dovremmo intervistarti una seconda volta e parlare solo dei bianchi perché questa è la perfetta chiusura di questa intervista perché tu con questa cosa che hai appena detto si era stufato del personaggio cucito gli addosso sostanzialmente stai dando il là per affrontare le tematiche dei bianchi quindi io penso che potremmo chiudere qua ringraziandoti veramente perché hai notato nessuno ti ha fatto domande perché in verità vai da sola qualcuna abbiamo fatto nulla rispetto a quello che facciamo di solito perché sei eccezionale e sei veramente per quanto mi riguarda il fan di Battisti numero uno perché tu vieni dal basso, vieni dall'ascoltatore e diventi qualcosa di diverso da tutti noi, di speciale sei quello che da ascoltatore diventa un attore di questa dimensione battistiana e noi ti seguiamo cioè sei il fan numero uno perché tu metti le mani in pasta direttamente nella musica te la canti, te la suoni con un timbro di voce incredibile e una sincerità che non è uguali che fa sì che noi tutti ti stiamo dietro e ti supportiamo e quindi ti ringraziamo sia per quello che fai che per il tempo che ci hai concesso e credo che fra te la d'accordo vorremmo reintervistarti un'altra volta per parlare soltanto dei bianchi, capisci? ti sembra solo dei bianchi che è molto difficile però tu ci siamo proprio in là quindi io se fra te la d'accordo farei un altro intervento, la chiuderei qui ma hai la porticina aperta assolutamente sì comunque mi sono divertito anche io perché quando parlo di Lucio soprattutto poi sai parlare di Lucio con persone che parlano come già ho detto prima lo stesso linguaggio mio mi sento a casa, capito? ti senti che se io vi dico una cosa voi la ferrate il punto, il momento una delle cose che è piaciuta chiudiamo poi a Walter Calloni di me quando mi ha detto io ho capito come sei fatto tu ce l'hai proprio inserito dentro tu sai perfettamente quando parliamo delle canzoni il punto dove io ti indico tu lo sai immediatamente al volo nella mente perché ce l'abbiamo incorporato incorporato è DNA come vogliamo chiamarlo assolutamente va bene grazie grazie Roberto a presto ciao ragazzi ci vediamo in giro ciao a tutti ciao 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 ciao